Quando ricevi un regalo che non ti piace, mai dirlo apertamente ah è orrendo, oppure è una cosa che detesto. Io personalmente agisco così, dico ah carino, ti ringrazio del pensiero e poi magari butto lì, però la prossima volta se vuoi che mi metto questa cosa sempre, dovresti trovare magari un colore diverso questa la metterò, però se vuoi che me lo metto sempre devi trovare qualcosa di diverso, magari invece di una sciarpa non so, un profumo, uno slip, cioè dare dei suggerimenti ma mai dire apertamente non mi piace, è molto scorretto a meno che la persona che te l'ha regalato sia una persona molto vicina a te e allora tu devi dire se vuoi veramente che mi piaccia totalmente potrai cambiarlo?